Arresti a Gela e a Mazzalino. Ad eseguirli sono stati i carabinieri. In città i nevi matteotti militari dell'arma hanno bloccato uno 46enne, già noto alle forze dell'ordine, e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora, arrestosi irreperibile dal giugno dello scorso anno. Era attivamente ricercato dalle forze dell'ordine che adesso lo hanno assicurato alla giustizia. A Mazzalino invece è stato manettato un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza superficiente del tipo marijuana. Una perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 30 grammi di droga, già divisa un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il fratello maggiore dell'arrestato è stato sorpreso con uno spinello e segnalato alla prefettura. La sostanza stupefacente, dopo essere stata sequestrata e repertata, sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Avevano appena finito di caricare otto quintali di uva asportati da un vigneto incontrata ad Agostino a Campopero di Licata, ma sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri di Licata, impegnati in un servizio nelle aree rurali. Quattro le persone arrestate. Si tratta di Giovanni Barbera e Franco Giuseppe Masaracchio, entrambi di 45 anni, di Salvatore Licata, 28, e Fabio Salvatore Lanzino, di 36 anni. Il quartetto si stava rifornendo di uva da tavola caricata su alcune automobili. Quando si sono visti a cercare dai carabinieri sfiniti dalla stanchezza, i quattro non hanno tentato la fuga. L'area furtiva è stata riconsegnata al proprietario del vigneto, il quale, oltre a ringraziare i carabinieri per la restituzione. Quasi in modo paradossale, ha ringraziato anche la sfortunata banda per avergli evitato di raccogliere gli otto quintali d'uva che oramai era pronta ad imperfetto stato di maturazione. I quattro, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari. L'odierna operazione, assieme a quella analoga effettuata alcuni giorni addietro dai carabinieri di Canicatì, con l'arresto di due malviventi che si erano impossessati di circa una tonnellata d'uva, rientra nel quadro del potenziamento dei servizi di prevenzione disposti dal comando provinciale carabinieri di Agrigento, volte a garantire la sicurezza pubblica nelle aree rurali in questo particolare periodo dell'anno.